Alvia, da parte del Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, l'attività promozionale di orientamento sulle opportunità professionali e gli sviluppi di carriera per l'esercito. Il Comando Militare Esercito Abruzzo Molise è su tre sedi, una all'Aquila, una a Chiede e un'altra a Campobasso. Prevalentemente è un ente territoriale, quindi le attività sono sul territorio. Ci occupiamo della promozione del reclutamento e della pubblica informazione nelle due regioni. Poi siamo vicini al territorio per quanto riguarda le infrastrutture militari, gli alloggi e i poligoni presenti nelle regioni. La campagna si sviluppa in sette tappe balneari e montane della regione, in particolare nelle località che non hanno una presenza dell'esercito in termini di infrastrutture o personale. Lo scopo è quello di fornire a tutti coloro che ne hanno necessità le informazioni inerenti ai reclutamenti. La particolarità dell'evento è data dalla possibilità di presentare la domanda di partecipazione ai concorsi in atto direttamente nelle postazioni appositamente dedicate, presenti negli infopoint itineranti. Sarà un tour itinerante per fornire informazioni relativamente ai concorsi della Forza Armata e le prospettive di carriera e offerte formative. Quanto è importante far conoscere poi l'attività dell'esercito ai giovani, ai ragazzi, a coloro che magari non avendo, come ha detto lei, strutture nelle vicinanze, si vogliono avvicinare a un percorso, a una carriera di tipo militare? E ovviamente diciamo noi, il nostro intento è proprio quello di diffondere queste informazioni perché avere notizie da personale militare direttamente che da un sito, da un bando, sicuramente potrebbe avere una caratura maggiore nei confronti dei ragazzi. E chi volesse già fare domanda per prestare servizio, quanto vogliono partecipare, come e quando può farlo? Allora sì, oltre al sito istituzionale di Forza Armata che ovviamente rimane valido, nei nostri infopoint itineranti ci sarà una postazione collegata dove sarà possibile presentare domanda anche grazie all'ausilio del personale che sarà presente. Dal 1 al 31 luglio è in corso il terzo bando di arrollamento per i volontari in ferma iniziale, circa 2000 posti. Ricordiamo il sito dell'esercito? www.esercito.difesta.it